Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Il noto comico italiano si è spento nelle scorse ore. Una grave forma di tumore se lo ha portato via troppo presto. Tantissimi messaggi di cordoglio, ecco di chi si tratta. La sua principale dote era quella di riuscire a strappare sempre il sorriso a chi lo circondava, al suo pubblico che da anni lo seguiva con grande passione, sia quello in teatro, che alla radio, in tv o i ragazzi disabili dell'associazione La Battaglia di Andrea alla quale era molto legato. Fino all'ultimo ha provato a far divertire gli altri, almeno fino a quando la malattia gli ha permesso di farlo. Poi, purtroppo, come riportato da Corriere.it, una grave forma di tumore ha preso il sopravvento e se lo ha portato via a soli 41 anni. Il riferimento è all'attore e cabarettista napoletano Massimo Cannizzaro, morto nelle scorse ore. Come riportato da Corriere.it, una delle sue parodie celebri è quella realizzata due anni fa, vale a dire Don Vincè, composta sulle note di Don Raffa e di Fabrizio De Andrè. Si trattava di una caricatura musicale, realizzata in pieno lockdown, sul governatore della campagna Vincenzo De Luca. La parodia in questione, inoltre, divenne virale in quanto fu rilanciata da Striscia la Notizia, la popolare trasmissione ideata da Antonio Ricci, in onda su Canale 5.